Stop sino al 31 agosto e lavori con esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16.00 e l'ordinanza emanata dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano a seguito della morte di Camara Fantamadi. Il bracciante di 27 anni, originario del Mali, è stato colto da malore nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, dopo aver lavorato senza sosta per ore sotto il sole cocente. Colletta in corso per riportare la salma a Mali, la procura di Brindisi ha aperto un'indagine.